Cosa c'è? Visionaire Cosa? Visionaire Ah, bene Si può tentare un'associazione di idee? Cinema Laura Buffa Fantastico Visionaire Al cinema Con Laura Buffa Ne sei sicuro? Sì Ok Benvenuti all'appuntamento con le Vision News le notizie dal mondo del cinema a cura di Visionaire Ingrid Bergman è la protagonista del poster ufficiale della 68esima edizione del Festival di Cannes che si terra dal 13 al 24 maggio La manifestazione quest'anno rende omaggio alla grande attrice nel centenario della sua nascita definendola icona moderna, donna libera, attrice audace Intanto in occasione della sua decima edizione il Festival della Capitale torna a chiamarsi Festa del Cinema di Roma e si svolgerà dal 16 al 23 ottobre Sotto la direzione di Antonio Monda non ci sarà nessun concorso e nessun premio è prevista una sezione unica con una trentina di film anteprime mondiali ed europee A proposito di Festival il DocuFilm una meravigliosa stagione fallimentare di Mario Bucci ha vinto la dodicesima edizione dell'11mm Football Film Festival di Berlino Il documentario racconta come un anno fa si è chiuso uno dei periodi più lunghi e controversi dell'AS Bari Calcio La società avviò le procedure fallimentari un colpo al cuore per la città ma anche un momento di rinascita Rimanendo in tema di situazioni che si chiudono in un'intervista a MTV News Jennifer Lawrence ha dichiarato che X-Men Apocalypse sarà la sua ultima volta nei panni di mistica che ha interpretato in X-Men l'inizio del 2011 e X-Men Giorni di un futuro passato del 2014 non si sa se la sua uscita di scena dalla serie coinciderà con l'uscita di scena del personaggio X-Men Apocalypse diretto ancora una volta da Bryan Singer uscirà nel 2016 per qualcuno che se ne va c'è qualcuno che arriva Variety scrive che la rilettura di Il Corvo ha trovato finalmente il suo protagonista sarà Jack Huston a vestire i panni di Eric Traven nella storia che lo ricordiamo è tratta da una graphic novel di James O'Barr abbiamo visto Jack Huston nella serie Boardwalk Empire in Wild Salome di Al Passino e American Hustle di David O'Russell le riprese e dirette da Corin Hardy inizieranno alla fine di quest'anno per il momento è tutto da Laura Buffa ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema venite a trovarmi sul sito www.visionaire.fm a presto e buon cinema a tutti 東西 e buon cinema e buon cinema il costo